Grazie. 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 Palla match. Palla match annullata da Marco Gatto, parità 19. Assegno, l'uomo lineari, Marco Gatto, 20-19, con la palla 7 per la coppia romana. E' un punto per Giulinio. Allora la palla 7, 20 pari e killer point. Chi si aggiudica a questo punto vince il set. Il caso di vittoria, il caso di punto per Giulinio, Mordenti. I ragazzi vinceranno la partita. E mette a segno il punto, Danny Mordenti, 21-20. Vanno in finale, Danny Mordenti e Giulinio.